Il Giumar adagiato sul fondo del mare a 18 metri di profondità, i sommozzatori che entrano dentro il relitto. Sono immagini forti, quelle diffuse dalla Guardia Costiera e da Vigili del Fuoco, relativi alle ricerche dei due pescatori viareggini, Fabrizio Simonetti, 52 anni, e Nello Simonetti, 48, che sono scomparsi da mercoledì. Dopo le ricerche risultate inutili all'interno del peschereccio, i sommozzatori del quinto nucleo Guardia Costiera di Viareggio e dei Vigili del Fuoco hanno continuato le immersioni nella zona vicino all'imbarcazione, ma finora dei due cugini non c'è traccia. Nemmeno i tentativi dei militari della Capitaneria di Porto, che sia con le motovedette in mare, che atterra perlustrando il mare e le spiagge antistanti Viareggio, hanno dato esito. Nelle prossime ore la Capitaneria di Porto di Livorno dovrebbe prendere una decisione, se proseguire ancora le ricerche oppure sospenderle, anche alla luce delle difficili condizioni del mare.